E allora buongiorno, e allora buongiorno, e allora abbiamo detto 1 a 3 finita 1 a 2, vabbè il disastro c'è comunque. Buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi e condividete, fate iscrivere, devastate di mi piace, 10.000 like per questo video, lasciateli tutti, guardate i video fatti sulla Fiorentina di quest'oggi che abbiamo risolto i problemi della Fiorentina e la live fatta lunedì nella quale abbiamo parlato di diverse squadre. Allora, intanto voglio iniziare da questo Benfica di qualità, che tocco palla c'è sta squadra, che leverage nel tocco, nel passaggio, nel primo controllo, nella gestione, che partita ha fatto Joao Mario, che ero tra i pochi pirla a difenderlo ai tempi dell'Inter dicendo anche di volerlo alla Fiorentina, un maestro, un maestro di tecnica e gestione, che giocatore è Enzo Fernandez, giocatore totale, giocatore, ma al di là dei nomi poi per gli appassionati degli album Panini, capito? È una squadra che gioca in modo semplice, perché adesso dipingeranno magari il Benfica come uno squadrone, no, è una squadra che ha due o tre concetti di gioco, molto semplici, una condizione atletica decente, che sta in campo in modo semplice, che sa verticalizzare, che sa controllare la palla, che non si fa prendere dalle frenesie, che ha una sua missione, la dipana in campo, un calcio in modo, non è che ci vuole una laurea, è calcio semplice, calcio educato, calcio ricettivo, è Juventus, guardate, io dallo Juventus posso dirvi che spero che non sia colpa del VAR oggi, facciamo 48 ore di trasmissioni sul VAR, parliamo del VAR oggi, qui, parliamo di Marcenaro, parliamo degli arbitri, spero di no, spero di no, cosa vi ho detto io nella live di qualche giorno fa, ho detto, ma perché al posto di concentrarvi sul VAR, ok, non si ragiona sul fatto di come gioca la Juve e se è normale che una squadra come la Juve debba rimontare al 94esimo in casa contro la Salernitana dopo essere stata in svantaggio 2-0. Gira che ti rigira, i problemi ci sono e vengono fuori. La Juve, devo dire, aveva fatto 10 minuti buoni, squadra concentrata nei primi 10-15 minuti, anche squadra aggressiva, squadra che era scesa in campo anche in modo positivo, poi il solito, squadra che sparisce dal campo, squadra che cala, attorno al 50-60esimo circa, secondo me, il Benfica poteva anche dilagare, poteva veramente fare almeno il 3-1, ma il calo della Juve è stato evidente, non è la prima volta, poi adesso magari ci sarà qualcuno capace anche di prendersela con Miretti per il fallo del rigore, ma il rigore non è che arriva a caso, c'erano già 15-20 minuti che la Juventus aveva mollato, che la Juventus era scesa, aveva smesso di giocare, ok, progressivamente, nel secondo tempo un vuoto pneumatico totale, cioè la ditemi voi la Juve del secondo tempo, no? Una squadra che doveva scendere in campo con tutt'altra energia, con l'opposto dell'atteggiamento che poi gli hai visto mettere in campo, una squadra remissiva, una squadra che non sapeva cosa fare con la palla tra i piedi, zero schemi come al solito, zero gioco come al solito, zero idee come al solito, tutto in mano a qualche iniziativa individuale che oltretutto stasera non c'era neanche, anche perché ho visto una squadra bella spompatella fisicamente, ma ho visto un calo, io credo che sia un mix di cose, nel senso che al 70% è proprio una squadra che è abituata a gestire così le partite, cioè il minimo, il cortomuso, assenza di schemi, assenza di idee, assenza di una mentalità propositiva e tutte cose storiche che abbiamo già detto, però un 25-30% di scarsa condizione ce la metto, perché non puoi vedere una squadra camminare al secondo tempo, però una sconfitta grave, perché adesso ti complica le cose nel girone e te le complica, perché anche il Paris Saint Germain oggi ha vinto, sì, ma non è che è andato lì a fare una passeggiata in Israele, poi per questa Juve qua qualsiasi avversario è un rivale difficile, è un problema, per questo che io ero molto scettico sul girone della Juventus che tutti davano come si passa e tutto fatto, attenzione, perché una squadra che non gioca così può avere problemi contro chiunque, contro chiunque. Poi alcune riflessioni sulla formazione, i cambi, cioè che cambio è? Che cambio è? Togliere Kostic per mettere Desciglio, cioè Kostic è stanco, vabbè mettimi un giocatore di un altro tipo, cambia schema, Desciglio mi metti, stai perdendo o pareggiando in casa contro la tua rivale in classifica nel girone, nella partita forse più importante del girone tutto e mi metti Desciglio. Poi un'altra cosa, io capisco che ad Allegri Milik ricorda Mandzukic, perché l'abbiamo capito, è lì che si va a parare, non è che c'è tanto da vedere. Ad Allegri Milik ricorda Mandzukic, quindi lo fa giocare, lo valorizza, lo premia, lo mette lì a fare il lavoro sporco, ma se tu giochi a due punte Milik si mangia Vlaovic, cioè di due attaccanti uno soffre, uno soffre, soffre quello che ha magari meno esperienza, meno capacità di gestire dal punto di vista tattico il suo ruolo, Vlaovic è uno che meriterebbe di essere valorizzato in uno schema una punta, il 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-2-1 e via dicendo. Se tu gli affianchi una seconda punta, il di Maria di turno, chi cazzo vuoi te è un conto, ma se gli affianchi un centravanti di così tante caratteristiche simili e incarichi Milik di fare anche lavoro sporco, di essere un po' il fulcro della manovra, Vlaovic sparisce, specie poi se metti in campo una squadra che di occasioni pulite ai centravanti, ditemi voi quante ne ha create stasera, ne ha creata qualcuna nei primi 10-15 minuti, poi la Juventus è sparita dal campo. La situazione è sempre quella, vi ripeto, è una squadra che ha per me sbagliato, una dirigenza, una squadra che ha sbagliato a ripartire dal mister che si ritrova in panchina e tu puoi dargli tutte le figurine che vuoi, ma anzi diventa, era la cosa che dicevamo a luglio, coi coglioni pezzati di sudore, è una cosa che diventa anzi controproducente, perché al posto di risolvere i problemi, cioè al posto di fare una ricostruzione vera, basata su idee di gioco, un calcio moderno, una valorizzazione tattica dei tuoi elementi, così come fanno un po' tutte le squadre in Italia che vanno bene e in giro per l'Europa, al posto di fare questo andando a valorizzare anche magari dei tuoi giocatori senza andarli a comprare a cifre pantagrueliche, invece rincorri paradossalmente le mancanze da questo punto di vista dell'allenatore che hai scelto, fai i mercati con le figurine, gente che anche ha un'età, gente tipo di Maria e Pogba che oggi ce li hai, domani non si sa, e questi sono i risultati, questi sono assenza di gioco, tutto in mano ad iniziative, quando ci sono, del singolo, squadra che non ha una tattica, squadra che scende in campo, fa 10 minuti, poi si rintana e subisce, perché oggi, le squadre di oggi, proprio perché gli altri puntano su un calcio, ma non serve mica parlare di calcio guardioliano, tiki taka, danismo, un calcio funzionale come quello del Benfica di oggi, voglia di vincere, di giocarsela, con i propri schemi, con le proprie triangolazioni, ok? Una squadra che fa dei movimenti codificati, tutte cose che nella Juve non vedi, perché è tutto in mano, o vedi in modo veramente minuto, perché è tutto in mano alle iniziative del singolo. A questo ci metti la solita logica del risparmino, che fai un gol, ti rintani, gli altri continuano a giocare e tu resti a guardare. Ci metti magari in una condizione fisica non ottimale, ci metti anche alcune scelte, perché io per esempio, ma come fai a tenere in campo McKennie così tanto tempo, che era già dal primo, quando ancora la Juve giocava bene, lui era già in affanno, non ho veramente capito perché McKennie è stato in campo così tanto. Quadrado è un giocatore che ha la sua età, ma soprattutto fa un ruolo molto dispendioso e gioca quasi sempre e si vede che non regge questi ritmi più, quindi anche quella è una scelta rivedibile. E poi il solito, vedi anche Di Marie, anche Paredes, tutta gente che si perde in questo, puoi prendere chi vuoi, ma non è così che oggi si costruiscono per me le squadre nel calcio moderno. Devi partire da un allenatore con una sua idea di calcio, di gioco, funzionale, non stiamo parlando di adanismi e guardiolismi, è un calcio funzionale, moderno, intenso, con i movimenti senza palla, fatto di pressing, intensità, movimenti senza palla, triangolazioni, e su questo ci innesti i giocatori. Non fare il contrario, non avere il famoso albero di Natale spoglio e riempirlo di palline, magari pure vecchi. Questi sono i risultati. Addios!